Purtroppo questi problemi sono arrivati nella giornata dell'altro ieri con una nota in cui ci si diceva che i convenzionamenti che tengono aperti la cardiologia a UTI che venivano revocati. È una cosa senza precedenti, è una cosa che non ha nessun riferimento perché si poteva fare se venivano assunti i 40 medici che ci aveva promesso il direttore generale, cosa che non è successo. Quindi noi siamo intervenuti immediatamente come CGL, purtroppo in piena solitudine, siamo intervenuti sulla direzione generale con le nostre sia segreterie provinciali di CGL, funzione pubblica che di CGL, sia con la segreteria regionale. Abbiamo ottenuto in questo momento, questa è un'anteprima che vi do in questo momento, la revoca del provvedimento di chiusura della UTI cardiologia, quindi la convenzione verrà mantenuta. Ma è solo un provvedimento tampone perché abbiamo delle notizie quasi certe, pur avendo segretato il piano attuativo, la direzione generale, abbiamo delle notizie quasi certe di un depotenziamento delle strutture nostro ospedaliere. Vi parlo di pediatria, vi parlo di addirittura anestesia e rianimazione, cioè strutture che da complesse diventano strutture semplici o addirittura come il laboratorio analisi e la radiologia che diventano strutture dipartimentali, quindi senza primari. Già in una situazione in cui certamente da anni, come sapete bene, ci sono stati un sacco di pensionamenti e trasferimenti e purtroppo non c'è stato un turnover. Anzi, vi dirò di più, in situazioni in cui, per esempio, avevamo concordato con il direttore sanitario di ASL, Pagano, che venissero aiutate le ostetiche, noi abbiamo solamente quattro ostetiche che fanno i turni, che sono costretti a fare dei turni massacranti, che alcune altre ostetiche del distretto venissero a fare qualche turno, non è successo. In tutta risposta, uno dei cinque tecnici di radiologia del nostro presidio ospedaliero è stato spostato, non sappiamo per quale motivo, improvvisamente, con un ordine del direttore sanitario Pagano a Vallo della Lucania, in un distretto, mettendo in crisi la nostra organizzazione. E questo vale per tutte le situazioni, ci hanno promesso tante cose dal punto di vista delle attrezzature scientifiche, fino adesso non è arrivato nulla, sono partite delle gare, però, concretamente, diciamo la verità, c'è una dicotomia assoluta tra quello che sta succedendo nella parte nord dell'ASL e quello che sta succedendo nella parte sud, perché anche Agropoli, non è possibile che venga chiuso un presidio ospedaliero senza dare un qualche cosa in cambio alla popolazione, è una popolazione importante. Noi siamo per discutere su tutto, però vogliamo discutere, vogliamo discutere soprattutto del piano attuativo, che non può essere fatto solamente da dirigenti nelle segrete stanze, non tenendo conto delle situazioni, perché vi faccio un esempio, che mi significa dare una struttura complessa all'anestesia e rianimazione di un ospedale dell'Agrano Cerino Sarnese, idea di secondo livello come il nostro e non darlo da noi. Addirittura si parla anche che la direzione sanitaria sia diventata struttura semplice, quindi stiamo veramente raggiungendo nella pratica quello che abbiamo sempre combattuto, e tu lo sai bene, le lotte che abbiamo fatto durante gli anni, dallo sciopero della fame in poi, anzi, dallo sciopero che Sapri fece per l'apertura di questo ospedale. Io sono sempre convinto che se Sapri non avesse fatto quella lotta in quei termini, con quel tipo di manifestazione, l'ospedale sarebbe ancora chiuso, come è stato chiuso fino a qualche anno fa l'ospedale di Agropoli, e poi una struttura modernissima. Speriamo che non venga data ai privati, perché a questo punto non capiamo la razza di tutte queste cose, nel momento in cui tu fai una chiusura e non dai immediatamente una struttura alternativa.